I sindacati pugliesi bocciano la legge di bilancio varata dal governo Draghi, ora al vaglio del Parlamento, e si preparano a scendere in piazza. Mattia Giuramento. È una manovra inadeguata, lo dicono in coro i segretari pugliesi di CGL, CISL e UIL, che chiamano il territorio alla mobilitazione. Il tema vero è anche il confronto rispetto a una manovra che non dà risposte soprattutto alle fasce più deboli del Paese, c'è una manovra fiscale che va assolutamente affrontata per provare a creare anche attraverso una migliore e più ecra redistribuzione delle risorse minori di disuguaglianze, c'è il tema delle pensioni e della previdenza, c'è il tema che riguarda anche il riconoscimento del lavoro di cura per le donne. Tanti temi per altrettante richieste di risposta da parte dell'esecutivo, a cominciare dalle pensioni. Continuiamo a dare i numeri, 102, 103, 104, credo che non dobbiamo più dare i numeri ma cominciare a fare i fatti, capire che l'assistenza e la previdenza sono due cose diverse, dare la possibilità ai lavoratori, perché i lavori non sono uguali, di andare in maniera flessibile in pensione. Il percorso di mobilitazione straordinaria sfocerà l'11 dicembre in una manifestazione unitaria a Bari, confidando nell'attenzione del governo. Ci auguriamo che così come è stato promesso dal Premier Draghi, ci si possa rivedere a livello nazionale con le tavole ad hoc e affrontarle nello specifico. La questione delle pensioni è determinante perché non possiamo continuare a immaginare che si possa andare oltre una certa età a lavorare su luoghi di lavoro. 17 persone arrestate a Taranto per pesca abusiva e commercio illegale di Oloturi è considerabile...